Io veramente faccio un appello che mi possano aiutare qualcuno perché non so veramente più come fare perché anche il nostro capo condominio non riesce più alle mani legate. Giorno e notte proprio, di giorno anche proprio verso le 4, le 5, questo è proprio un orario loro favorevole e poi anche la sera, anche la sera dopo scena perché l'altra sera il fidanzato della mia figlia è arrivato alle 9 e mezzo e ci ha chiamato dicendo appunto guarda sono qui sotto che si stanno bucando. Siamo in via del trionfo Arezzo, lei è Katia, una mamma aretina che non ne può più di trovare questi segni di spaccio e consumo di droga sotto il portico di casa. E così affida ai social network la sua denuncia postando delle foto terribili. La denuncia è presto condivisa da molti aretini che abitano anche nella zona di Saione, anche qui scrive appunto un amico, è il quartiere degli zombie. Una denuncia tramite social, lei ha postato delle foto contenenti il degrado con cui avete a che fare tutti i giorni, ecco qual è la situazione qui? La situazione praticamente va avanti da 4 anni più, anzi perché da luglio del 2012 ho acquistato l'appartamento e all'inizio diciamo che sembrava una zona tranquilla. Poi hanno cominciato diciamo con le dosi perché è venuto infatti una volante un giorno dopo tante volte che vedevamo queste persone trafficare, mettere nel muretto delle cose. Dopo tanto siamo riusciti a diciamo prendere questi ragazzi, cioè più che ragazzi a prendere la persona che spacciava, quindi 33 dosi venne trovato all'epoca. Dopodiché niente, è andata a peggiorare perché dallo spaccio e diciamo questo scambio tra di loro è venuto fuori proprio le persone che invece adesso si bucano sotto casa. Quindi ora io chiedo più che altro, a nome di tutto il palazzo perché magari stamani non c'era gente che poteva venire, un aiuto anche da parte dell'autorità, che ne so, dell'USL oppure anche del comune, si può mettere delle telecamere perché essendo ancora un palazzo nuovo perché ha quattro anni e basta, quindi c'è poca gente ancora sotto che è abitata, anche se è illuminato e tutto quanto, loro vengono a farsi qui sotto e io ho tre figli, l'ultima ha sette anni, sinceramente vedere queste cose, insomma non è che ti fa piacere, fa paura a me, figurati una bambina che non vuole rientrare in casa la sera a una certa ora perché dice mamma se ci si trova questi che si bucano, cioè sono quattro anni che non ci si fa più, è diventata una cosa invivibile.